Il festival è già iniziato oggi con le prove dei giovani ragazzi, il primo concerto sarà il 29 di agosto e l'ultimo concerto il 5 settembre. Ci sono un sacco di eventi dislocati lungo tutta questa lunga settimana e il tema di quest'anno appunto è nuovi orizzonti e diciamo abbiamo un sottotitolo che sono appunto incroci tra mondi, culture e generazioni. Verranno solisti internazionali da tutto il mondo, dall'America, da Israele, da varie parti del nord e del sud dell'Europa e soprattutto artisti che rappresentano generazioni diverse. Abbiamo il giovane vincitore del concorso Tchaikovsky che ha appena compiuto i 22 anni, abbiamo un artista già affermato come Jean-Guyen Kiras che è nella sua cinquantina e artisti che diciamo rappresentano anche culture ed etnie diverse e quindi modi di vedere il mondo, modi di vedere la cultura diversa e sarà un reciproco scambio con la importantissima realtà locale che è del Conservatorio Venezia e dei musicisti rodigini, uno tra tutti è appunto il giovanissimo Luca Giovannini e soprattutto l'apporto fondamentale delle due fantastiche ed eccellenti classi del Conservatorio che sono quella di Luigi Buxa e due di Luca Simoncini che è stato anche il mio maestro. Grazie mille. Grazie a tutti voi e vi aspetto ai concerti di Rovigo Cello City del 2021. Grazie a tutti.